Nel fine settimana fino al 2 giugno si svolgerà l'ottava edizione della settimana dell'accoglienza. Otto anni che sono volati e come considerazione anche un po' amara i problemi legati all'accoglienza dei migranti come vediamo tutti i giorni, quotidianamente sui giornali, non accennano andare verso la risoluzione ma anzi si aggravano. Per 4-5 giorni nelle aree esterne al centro commerciale Viale Pozzoli alcune delle comunità residenti della nostra provincia metteranno in mostra gli abiti tradizionali, i prodotti gastronomici tipici e tanta musica, tanta accoglienza. Anche quest'anno conferiamo il premio amico della settimana dell'accoglienza e le comunità dei migranti insieme al Comitato Solidarietà Immigrati hanno individuato quest'anno il direttore come premiato, il direttore della Caritas Don Luca Palei che premieremo domenica 29 maggio. Questa festa dell'accoglienza da Santo Stefano alla fabbrica significa per noi integrazione, unità perché devono essere uniti, stare insieme con gli italiani e con altre comunità straniere come dominicani, senegalesi, colombiani, che partecipano a questa festa. Facciamo dei bali tradizionali e popolari, una sfilata di costumi tradizionali e popolari. Nella settimana di accoglienza da noi significa che per unire tutti i senegalesi e partecipare insieme con le altre associazioni, dominicani, marocchini, tunisini, anche albanesi, anche rumeni. Devo fare l'integrazione con gli italiani insieme con la festa. Noi organizziamo soltanto dei piatti tipici senegalesi che si chiama Yassa e poi c'è anche la musica senegalese che li fa il gruppo Afia. Come tutti gli anni noi parteciperemo a questa settimana dell'accoglienza, siamo presenti in tanti per solidarizzare con queste popolazioni sul tema dell'accoglienza che è l'unice tanto fa. E poi avremo delle bambole, le solite pigotte, domenicane, e avremo anche per l'occasione delle pigotte, quelle dei fumetti. E poi avremo altri prodotti, ma è importante essere presente per essere solidari con questi popoli.